Salve a tutti e benvenuti nel canale. Io sono Lorenzo e ogni tanto cerco di portare qualche video true crime su questa piattaforma, quindi se avete piacere iscrivetevi. La donna chiusa in questa cella dell'aeroporto di Orlando si chiama Lisa Nowak. Lisa è estremamente nervosa, si trova lì da un po' e cammina avanti e indietro. Il reato di cui la polizia la sospetta è uno dei peggiori nello stato della Florida. Le prove sono schiaccianti. Eppure all'insaputa degli investigatori Lisa Nowak sette mesi prima si trovava in orbita su uno space shuttle per conto della NASA. Ma come ci è arrivata nello spazio? E come è finita in prigione? Comunque lo sapevate che l'autore di The Martian Andy Ware disse Gli astronauti sono matti per principio. Beh, penso proprio che si riferisse a Lisa Nowak, al suo bizzarro crimine e al suo triangolo amoroso spaziale. Tutte cose di cui parleremo nel video di oggi perché, Houston, abbiamo un problema. Lisa Mary Nowak nacque a Washington il 10 maggio 1963. Penso che il suo cognome in origine fosse caputo, se ho capito bene. Ma le informazioni a riguardo sono inattendibili, quindi userò Nowak per il resto del video. Sua madre era una biologa e suo padre lavorava nel campo dell'informatica. Lisa ebbe un'infanzia stupenda insieme alle sue due sorelline. Non mancava loro niente, dai giochi fino all'affetto dei genitori. Ma nel 1969 un evento cambiò per sempre la vita della giovane Lisa. Il 20 luglio di quell'anno Neil Armstrong divenne il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare. Tutta la missione Apollo 11 venne trasmessa in 33 paesi. Solo negli Stati Uniti 25 milioni di persone erano incollate ai teleschermi. Ad ammirare un momento che avrebbe segnato per sempre la storia umana. Lisa all'epoca aveva solo sei anni di età, ma stando alle testimonianze dei suoi genitori, questa bambina rimase stregata da questa mastodontica impresa. E il 21 luglio, dopo che vide anche Buzz Aldrin farsi la sua camminata lunare, disse io da grande farò l'astronauta. Penso che all'epoca lo dissero tante altre bambine, ma Lisa fu l'unica ad avere successo e a coronare il suo sogno. Il suo carattere, la sua perseveranza, la sua tenacia, la versatilità nello studio e la perfetta forma fisica furono gli ingredienti del suo trionfo. Lisa alle superiori era la migliore dell'istituto, un'ottima giocatrice di hockey, una campionessa del team di matematica e la rappresentante del corpo studenti. Solo i migliori diventano astronauti e la ragazza non perdeva occasione per eccellere e distinguersi dagli altri. Terminate le superiori, Lisa superò le difficilissime selezioni per entrare nell'Accademia Navale degli Stati Uniti d'America. E dopo anni di duro lavoro divenne un ufficiale della Marina. Ah, è facile, no? Fai domanda, superi il concorso, superi gli anni in Accademia. Ed ecco, sei diventato un ufficiale a tutti gli effetti. Più facile a dirsi che a farsi, direi. Vedete, è dura già per un ragazzo di 20 anni in perfetta forma fisica e perfetta salute mentale, ma per una ragazza di 19 anni nel 1981 era come scalare l'Everest senza avere delle bombole di ossigeno. Le donne erano state ammesse meno di un decennio prima nelle forze armate. C'era molta discriminazione e c'era molto nonnismo. Le studentesse dell'Accademia Navale formavano il 6% del totale di tutti gli studenti. Erano davvero, davvero poche. I professori in classe dibattevano spesso con gli alunni riguardo all'espulsione del gentil sesso dalle forze armate, ritenendo i soldi impiegati per il loro addestramento uno spreco. I commilitoni di Lisa la bullizzavano costantemente e la toccavano in modi poco appropriati, ma la ragazza non si lamentò mai di tutto questo perché sapeva che se avesse denunciato questa situazione non avrebbe mai scalato i ranghi. Il suo fascicolo doveva essere perfetto. E fu proprio stringendo i denti che nel 1984 ottenne la sua prima laurea, quella in ingegneria aeronautica. Nel 1985 la Nowak, dopo aver superato altre selezioni, entrò nel programma Flight Training a Pensacola in Florida e con il tempo riuscì a diventare un pilota della Marina Militare degli Stati Uniti. Un pilota in ruoli non combattivi. Le donne che pilotavano dei aerei nella Marina Militare erano pressoché inesistenti all'epoca. Lisa fu una delle prime. Nel 1988 la Nowak sposò un certo Richard Nowak. I due si erano conosciuti in Accademia Navale a Indianapolis diversi anni prima. Ad unirli era stato il loro desiderio di lavorare un giorno per la NASA e magari di andare nello spazio, anche se Richard rimarrà a Terra per sempre. Comunque sia una coppia quasi perfetta, oserei dire. Nel 1995, superando 23.800 candidati, Lisa entrò ufficialmente nella NASA come astronauta, mentre con Richard le cose andavano alla grande. All'epoca i due avevano una bambina e qualche anno dopo ne sarebbero arrivate altre due gemelline questa volta. Il signor Nowak disse che la sua vita familiare era perfetta, aveva una moglie che lo amava, che era sempre felice e mai insoddisfatta. E forse Lisa gli diceva di essere soddisfatta, di essere contenta della vita matrimoniale, ma alle sue spalle lo trattiva con un certo Bill Hoffline. Bill era un pilota della marina militare laureato in sistemi di aviazione e ingegneria elettronica originario dell'Alaska, classe 1965, e come Lisa desiderava diventare un astronauta. I due fecero conoscenza nel 1988 in una base in Maryland e divennero ottimi amici in breve tempo, uniti dalla passione per il ciclismo. All'inizio erano buoni amici, ottimi amici, entrambi avevano una famiglia, Bill aveva due figli di 13-4 anni, ma poi nel 2004 cominciarono a diventare più intimi, se capite cosa intendo. Ma i due dovevano frequentarsi clandestinamente perché se la marina militare avesse scoperto di questo affare, di questa storia di infedeltà, li avrebbe congedati entrambi, probabilmente con disonore. Ma prima di arrivare al 2004 dobbiamo parlare del 2003. Forse un'annata terribile per Lisa. Vedete, suo marito era in missione all'estero mentre lei era a casa che si prendeva cura delle sue tre figlie. E contemporaneamente doveva continuare ad allenarsi per andare nello spazio, perché Lisa sì, è un astronauta, ma ancora non ha mai lasciato il pianeta Terra. Il suo stress raggiunse picchi mai visti prima quando il primo febbraio 2003 lo Space Shuttle Columbia esplose a rientro uccidendo sette astronauti. Le tre donne a bordo erano amiche di Lisa. La Nowak pianse, si disperò e poi aiutò la famiglia di una delle cadute come meglio poteva durante questo difficile periodo, su diretto ordine della NASA. Tutto questo ci porta al 2004. Nel gennaio di quell'anno Lisa e Bill vennero spediti dalla NASA in un'area boschiva del Canada, mi sembra il Quebec. Ecco i due ed altri quattro astronauti dovevano sopravvivere per due settimane lì, procacciarsi il cibo, prendere l'acqua, costruirsi un accampamento, tutto in vista della loro missione spaziale. E durante questa, se chiamiamola vacanza, non lo è, Bill e Lisa cominciarono a diventare forse troppo amici. Ed è così che ebbe inizio la loro storia. I due riuscirono a tenere nascosta la loro relazione extra matrimoniale per circa un anno, ma poi nel gennaio del 2005 la moglie di Bill trovò delle email tra lui e Lisa. Email un po' piccanti dove Bill diceva di amare Nowak. Diceva che questa donna lo aveva salvato dal suo matrimonio e lo aveva fatto rinascere. Sua moglie dopo averle lette tutte, prese i vestiti, le scarpe, i calzini, mutande, una valigia, la buttò fuori di casa e gli disse Bill arrivederci e grazie. L'astronauta a quel punto affittò un appartamento in centro ad Austin e continuò a rimanere in ottimi rapporti con Lisa, la donna che, insomma, aveva detto di amare e le diede una chiave del suo appartamento. Tanto che la Nowak divenne una delle persone che lo andava a trovare sempre a cadenza settimanale, anche se la donna si rifiutava categoricamente di lasciare Richard Nowak. Era come se volesse continuare ad essere sua moglie e contemporaneamente la fidanzata di Bill. Quindi sono due piedi in una staffa. Non sappiamo bene il perché. Lisa disse in seguito di aver amato Bill sin dal primo momento, ma allora perché non lasciare Richard? Nel luglio del 2006, dopo molti anni di allenamento a terra, Lisa partì alla volta delle stelle, sullo Space Shuttle Discovery come specialista di missione. Lisa aveva il compito di operare il braccio robotico, ed eccola in orbita finalmente, immersa nella sua tuta blu che fluttua all'interno della navetta spaziale, il sogno di tutta una vita che si realizza. Bill a terra nel frattempo fece la conoscenza di una certa Colin Shipman, ufficiale della marina militare di 29 anni. I due si conubero a una festa in centro ad Austin e Bill sentì subito una certa affinità e poi Colin non aveva figli, non aveva un marito, era single. E tra i due ecco che scattò la scintilla. Insomma deve essere stato anche il fascino della divisa ad astronauta. Quando Lisa lasciò l'orbita extraterrestre e tornò sul suolo statunitense, venne informata da Hoffeline della sua nuova fiamma. E le disse, guarda mi vedo con una certa Colin, le cose con lei vanno alla grande e tra di noi non proprio, tra poco finirà tutta la pacchia. Ed ecco che l'astronauta cominciò a spendere molto tempo con la Shipman e sempre meno tempo con Lisa Nowak. Diciamo che Lisa divenne la sua seconda scelta in un certo senso. Certo, c'era qualche appuntamento, qualche pedalata in giro per il deserto texano, ma erano eventi sempre più sporadici. Nel 2006 Bill partì in missione nello spazio. Lui era il pilota dello Space Shuttle e una volta arrivato in orbita inviò numerose email a Colin e Lisa, dove diceva ad entrambe che le amava. Facciamo un attimo il punto della situazione perché tutti questi incroci spaziali mi stanno facendo girare la testa. Abbiamo Lisa, Lisa Nowak, che sta con Richard, ma che sta tradendo Richard con Bill Hoffeline dal 2004. Però non vuole lasciare Richard. Bill adesso reduce da un matrimonio, con due figli alle spalle, intrallazzava con Lisa, ma ora ha conosciuto Colin e vuole stare più con Colin che con Lisa. Che casino questi astronauti. Questo intreccio spaziale andava avanti da troppo tempo e presto sarebbe venuto tutto a galla rovinando la reputazione della NASA per sempre. Nel gennaio del 2007 Lisa, accecata dalla gelosia, entrò nell'appartamento dell'astronauta e raccolse più informazioni possibili su Colin, incluso il suo indirizzo di casa. Doveva sapere chi era questa donna, dove abitava e che aspetto aveva. Tutte cose che gli sarebbero servite per portare a termine il suo diabolico piano. Colin, sempre nello stesso mese, venne a sapere dell'esistenza di Lisa attraverso delle email sul computer di Bill. Deja vu. Bill, ma non è il caso di eliminarle quelle email? Ci hai già perso due figli e un matrimonio? Tua moglie ti ha buttato fuori di casa? Non solo questo marinaio spaziale, in un'occasione intima, ebbe il coraggio di chiamare la Shipman Lisa. Abbastanza strano. Colin, dopo aver scoperto chi fosse questa Lisa Noah, che gli disse, ascolta, adesso scegli, o me o lei. Non puoi tenere due piedi in una staffa. E Offlane alla fine si decise e disse, voglio solo te, Colin. Lisa, quando lo venne a sapere, beh, non era super felicissima della cosa, lasciate che ve lo dica. E fu allora che cominciò a mettere insieme un piano per rapire e uccidere Colin Shipman. Grazie alle informazioni raccolte a casa dell'astronauta, la donna venne a sapere che il 2 febbraio la Shipman sarebbe arrivata all'aeroporto di Orlando, in Florida, e quindi decise che le avrebbe dato un caldo benvenuto. E così Lisa, il primo febbraio del 2007, guidò per 16 ore e 50 minuti, senza fermarsi per andare al bagno. Una volta arrivata ad Orlando, prenotò una camera in un hotel sotto falso nome e poi si precipitò all'aeroporto. Con sé aveva dei pannoloni d'astronauta, una parrucca nera, un cappello nero con la visiera a becco, un impermeabile bianco, guanti neri e degli occhiali da vista finti. Nessuno sarebbe stato in grado di riconoscerla. Per rapire Colin si era portata dietro una pistola ad aria compressa, un martello, un coltello, uno spray al peperoncino e dei lacci emostatici. La donna, per qualche strano motivo, in una borsa aveva un floppy disk pieno di immagini bondage, di donne legate, alcune nude, altre vestite. Inoltre in un borsone che si era portata dietro c'erano delle email stampate amorose tra lei e Bill Hoffline. Ah, e in un altro foglio che era stato stampato c'era una mappa del quartiere dove viveva Colin Shipman con dei numeri segnati. Quei numeri erano il suo indirizzo di casa. Ma perché i pannolini da astronauta, vi chiederete voi? Beh, avete mai provato a guidare per 16 ore e 52 minuti senza mai fermarvi? Lisa Nowak era abbastanza istruita, quindi sapeva che la polizia avrebbe cercato delle tracce forensi, dei liquidi corporei e lei non voleva lasciare i suoi da nessuna parte per rendere ancora più difficili le indagini. A luna di notte del 2 febbraio 2007 Colin atterrò ad Orlando. Le telecamere dell'aeroporto la ripresero a luna e 22 incamminarsi verso il deposito Bagagli. Dietro di lei c'era Lisa Nowak che la pedinava, sempre dietro di lei come un'ombra. A luna e 25 Lisa indossò il suo impermeabile bianco e lo abbottonò. La Shipman attese quasi, no aspetta, quasi due ore per ritirare la sua valigia e alle 3 e 15 si diresse alla navetta che l'avrebbe portata al suo mezzo. L'astronauta accorciò la distanza dal suo bersaglio e si coprì la bocca ed il naso con una sciarpa. Successivamente iniziò a correre verso la navetta per salire insieme a Colin. La Shipman a quel punto aveva capito che qualcosa non andava. Questa donna strana tutta angoluppata l'aveva seguita per tutto il tempo e non aveva nessun bagaglio con sé. Era molto nervosa, ansimava, sudava e la fissava con uno sguardo minaccioso. La navetta lasciò Colin e quella che noi sappiamo essere Lisa in un parcheggio satellite dell'aeroporto e la Shipman una volta che mise un piede a terra cominciò a correre verso la sua auto e ci si chiuse dentro. Lisa in quel buio parcheggio verso le ore 4 di notte cominciò a bussare al finestrino della Shipman e le chiese per favore fammi entrare, per favore, per favore, non ho un passaggio, il mio ragazzo mi ha lasciato qui, per favore. Insomma era molto insistente e molto rumorosa. Colin le disse assolutamente no, allontanati, allontanati. E fu in quel momento che la Nowak le disse guarda va bene però fammi fare una chiamata, fammi fare una chiamata e poi non ti sento bene. La Shipman per mandarla a quel paese come si deve abbassò il finestrino e tentò di dirle guarda vattene, sparisci, non ti azzardare a venirmi vicino, ma quello fu un errore madornale, abbassare il finestrino. Perché Lisa non appena ebbe l'opportunità fece del male a Colin, ovvero tirò fuori uno spray al peperoncino dalla tasca e cominciò a spruzzarglielo negli occhi. Colin nonostante la stanchezza, lo stress, la paura e la visione offuscata riuscì a ingranare la retromarcia e a scappare dal parcheggio senza danneggiare le altre auto. La donna dopo aver guidato per 60 secondi arrivò in un'area sicura e avvertì la polizia di Orlando che arrestò Lisa Nowak in meno di 5 minuti. L'astronauta dopo aver speso un'ora nella cella dell'aeroporto di Orlando venne portata nell'ufficio dello sceriffo dove due detective la interrogarono per 6 ore. Lisa disse che voleva fare solo due chiacchiere con Colin e mostrarle alcune email, ma mica ammazzarla e rapirla. Il kit, il martello, il coltello, era nel caso in cui mi avesse aggredito o se avesse reagito in maniera strana. La polizia non si fece abbindolare da questa storia e la portò nel carcere della contea con l'accusa di tentato rapimento. Il procuratore un giorno dopo la accusò anche di tentato omicidio. Lisa si dichiarò non colpevole di tutti i reati a lei ascritti. Durante la sua prima udienza in aula erano presenti gli alti ufficiali della NASA e il giudice, forse anche per simpatia, le impose una cauzione di soli 25 mila dollari. La NOWAC pagò effettivamente la sua cauzione e dopo due giorni venne scarcerata, prelevata immediatamente dalla NASA, intervistata e poi licenziata in tronco. Metto le mani avanti adesso, non so che cosa sia successo in quell'intervista gli alla NASA, di che cosa abbiano parlato, quali test le abbiano fatto e quali eventuali malattie mentali le abbiano diagnosticato. Lisa, in attesa del suo processo, tornò in Texas con una cavigliera GPS. La sua reputazione era macchiata in maniera irreversibile. I giornali e le tv nazionali parlavano solo di lei, del suo triangolo amoroso spaziale, del suo piano per rapire e forse uccidere Colin Shipman e dei pannoloni d'astronauta che si era portata dietro. I legali della NOWAC nel frattempo, presumo ben pagati, fecero a pezzi il caso del procuratore in aula. Come prima cosa resero inammissibile l'interrogatorio in tribunale, poi tolsero la cavigliera alla loro assistita. Il team rese inammissibili alcuni elementi provatori e smontò parzialmente la testimonianza della Shipman. La polizia aveva trovato sì la bomboletta spray al peperoncino, ma i paramedici e il poliziotto che soccorsero per primi la Shipman la sera dell'attacco non notarono lacrime sul suo volto o arrossamenti, nessun danno insomma. E poi arriviamo alla ciliegina sulla torta perché secondo il suo legale Lisa NOWAC al momento del crimine non era capace di intendere e di volere. La mia cliente era lì fisicamente ma con la testa era sulla luna. Dopo diversi test divenne chiara agli esperti la presenza della sindrome di Asperger, del disturbo depressivo maggiore, del disturbo psicotico e del disturbo ossessivo compulsivo della personalità. Secondo gli psichiatri queste cose mischiate allo stress dell'allenamento per diventare un'astronauta, della tragedia del Discovery nel 2003, avevano fatto andare Lisa NOWAC fuori di testa. Personalmente mi pare assurdo che gli esperti della NASA non si siano resi conto di nulla. Ma all'epoca la NASA faceva solamente un test psichiatrico e psicologico e lo faceva durante i concorsi, durante la selezione, quindi proprio all'inizio, ma non durante gli allenamenti e nemmeno a rientro dallo spazio. Richard NOWAC stanco delle bugie di sua moglie chiese il divorzio nel marzo del 2008 e il 10 novembre 2009 Lisa NOWAC si dichiarò colpevole dell'aggressione, dato che il procuratore aveva fatto cadere le altre accuse grazie alla difesa e la NOWAC venne condannata a 5 anni di libertà vigilata e due giorni in galera, già scontati in precedenza nel carcere della contea. Colinde scrisse l'attacco nei minimi dettagli al giudice dicendogli di come aveva cambiato la sua vita per sempre. La Shipman, dovete sapere, adesso porta sempre una pistola con sé e si guarda costantemente alle spalle. Per lei il mondo non è più un posto sicuro. Ma il magistrato, a quanto pare, non diede peso alle sue parole e impose una sentenza veramente irrisoria. Chissà, forse lo avevano colpito le scuse di Lisa che disse in aula, ma personalmente a me sono sembrate le classiche quattro righe che ti scrive l'avvocato. Colin Shipman e Bill Offlane al giorno d'oggi sono ancora vivi, non fanno più parte della marina militare e insieme hanno una figlia. Lisa è stata congedata dalla marina dopo l'incidente e stando ai suoi legali è da qualche parte, che lavora in un settore privato ed ha la custodia assoluta delle sue tre figlie. La NASA è ancora dove stava prima e adesso sottopone gli astronauti a test psicologici a cadenza mensile, per evitare la prossima Lisa Nowak, dalle stelle alle stalle. Sapete, la sua poteva essere tranquillamente una storia di vero successo, di una donna che nel 1980 era riuscita a entrare all'Accademia Navale, cioè è stata calpestata da mille uomini, insomma solo il 6% erano donne, però comunque ha stretto i denti, è diventata un pilota al flight training a Pensacola in Florida, non so se ve lo ricordate, poi è diventata un'astronauta e è andata nello spazio... wow! E adesso invece verrà ricordata per essere l'unica astronauta che è stata accusata di tentato rapimento e tentato omicidio. Allora personalmente io sto dalla parte del procuratore, cioè per me era tentato omicidio e tentato rapimento. La polizia invece disse al procuratore no, fermo col tentato omicidio, è solo tentato rapimento. E alla fine poi come abbiamo visto ha vinto la difesa con l'aggressione. Ma voi, dopo aver ascoltato tutta questa storia, che cosa ne pensate di questo triangolo amoroso? Quali erano le vere intenzioni di Lisa Nowak quella sera? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. A quanto pare c'è anche un film ispirato a questi fatti che si chiama Lucy in the Sky. Abbiamo Lucy Cola che è una, diciamo, Lisa Nowak interpretata da Natalie Portman, astronauta che comincia a tradire il marito al ritorno da una missione nello spazio. Quindi diciamo che è abbastanza simile, è una visione che vi posso consigliare, dai! Se siete ancora qua con me vi ringrazio molto per aver visto questo video. Crimini e criminali non sarebbe qua se non fosse per voi. E veramente un caloroso abbraccio. Ah, un caloroso abbraccio anche all'iscritta che mi ha consigliato questa storia. So che sono passati molti mesi, io ci metto sempre le mie tempistiche, però ho molto a cuore quello che scrivete, anche se magari vi sembra che non l'ho letto perché non ho commentato, ma ho a cuore qualsiasi cosa venga scritta. Proprio per questo vi dico che sto lavorando alcuni casi italiani che mi avete consigliato e noi ci vediamo nel prossimo video. Ma fino ad allora, per favore, rimanete con i piedi per terra e prendetevi cura di voi stessi. Grazie.